Ciao ragazzi, è tutto? Pensavo tranne che di dover fare questo video alle 9 e mezza di sera. Allora, come forse avrete letto, hanno annullato l'evento di giovedì di presentazione dei giochi PS5 a data da destinarsi. Quindi quello che sarebbe dovuto essere il giorno di presentazione del futuro del gaming targato Sony è stato rimandato a una data che non conosciamo in questo momento. Verrà probabilmente comunicata nelle prossime ore, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, perché la decisione di Sony è dipesa quasi esclusivamente da quello che sta accadendo in America in questi giorni. Una situazione che, come avrete sicuramente avuto modo di vedere, è al limite. L'America sta attraversando uno dei suoi momenti più delicati nella storia moderna ed era inevitabile che Sony in questo momento decidesse di mettersi un pochino da parte. Poi si può essere d'accordo, si può non essere d'accordo con questa decisione per mille e i più disparati motivi, ma resta il fatto che è una scelta che per quanto potrebbe apparire opinabile agli occhi di molti è, secondo me, la più saggia in questa fase. Per tanti motivi. Per cui rimanderemo, chiaramente questo implica che salta l'appuntamento serale, che salta con tutto quello che avevamo in mente per quella giornata, ma forse è giusto così in questo momento. Per cui, niente ragazzi, ovviamente, ovviamente vi terrò aggiornati con tutte le novità del caso, ovviamente seguiremo da vicino anche eventuali aggiornamenti sul caso specifico, però insomma ci tenevo a mettervi al corrente della situazione perché è un momento storico molto molto particolare. Questo 2020 penso che sarà un anno che tutti quanti ci ricorderemo con un certo fastidio ben oltre la sua conclusione, che speriamo arrivi il prima possibile. Insomma, questo 2020 non vado l'ora di mettermelo alle spalle e credo che valga lo stesso per tante altre persone. Per cui, niente ragazzi, questo è quanto. E noi ci aggiorniamo il prima possibile. Un abbraccio a tutti.